Era il 23 dicembre 2010 quando la riforma a Gelmini diventava legge, approvata al Senato con 161 sì, 98 no e 6 astenuti. Ora quindi la legge 240 a 2010 deve essere applicata e dentro le università italiane la confusione è molta, come evidenziato dai continui seminari volti a discuterla. Un'attività che interessa anche l'Università di Torvergata, dove si è svolto un incontro di battito curato dal professor Pasquale Lucio Scandizzo. Il quarto del ciclo di appuntamenti riguardanti la riforma organizzati dalla biblioteca Vilfredo Pareto. In che modo la riforma a Gelmini inciderà sullo statuto di Torvergata? Lo statuto di Torvergata, come quello di tutte le università, dovrà essere completamente riscritto per riflettere tre principi fondamentali. Uno è quello della concentrazione dei poteri e della managerialità. Il secondo è quello della sussidiarietà, chiamiamola così. E il terzo è quello del reciproco controllo dei vari poteri. Quindi la governance dell'università sarà completamente ristrutturata intorno a questi tre principi. Per quanto riguarda il settore del reclutamento dei docenti, cosa succederà? Il reclutamento dei docenti sarà responsabilità primaria dei dipartimenti, secondo la legge Germini. Però anche qui bisogna trovare un equilibrio tra questa responsabilità primaria, un sistema di controlli da parte anche degli altri organi e poi soprattutto l'equilibrio tra il giudizio sulla qualità dei docenti e la loro valutazione e dall'altra parte l'allocazione delle risorse economiche. E per la ricerca? La ricerca è una conseguenza del reclutamento in parte e in parte è una conseguenza della capacità poi delle università di organizzarsi per ottenere anche dei fondi sul mercato internazionale. Razionalizzazione è stata la parola d'ordine del ministro Gelmini durante l'iter per l'approvazione della riforma. Tuttavia per il momento docenti, personale amministrativo e studenti sembrano alquanto disorientati e incerti sul futuro. La riforma prevede un gran numero di decreti attuativi. Attualmente il governo non sembra che se ne stia occupando molto. Se questi decreti attuativi non verranno adottati, cosa avverrà? Questa è una domanda a 100.000 euro o forse anche di più. Ci sarà una paralisi relativa, una zona di inerzia temporale. Speriamo che non avvenga, speriamo che sia una cosa più rapida. La legge, nel cui testo ricorre per ben 14 volte l'espressione senza nuovi e maggiori oneri, come scrive Michele Ainis, toglie all'università 400 milioni di euro. Però il ministro Gelmini ha rassicurato gli studenti, affermando che l'aumento delle tasse sarà solo un extramarazio da non prendere in considerazione. Ciò non sembra valere per alcuni atenei che già hanno ritoccato le rette, come Ettore Vergata, il cui senato accademico lo scorso 15 febbraio ha votato un aumento indiscriminato delle tasse universitarie pari al 13%. Bisogna ritrovare un equilibrio tra gli stanziamenti statali e quindi tra il prelievo dal pubblico attraverso le tasse, lo strumento della tassazione, e quello del prelievo degli utenti, che sono gli studenti. Non tutti gli studenti sono nullatenenti. Una parte degli studenti ha una disponibilità e una capacità a pagare che però deve essere espressa in maniera adeguata. Però l'aumento sarà trasversale? Se il diritto allo studio ha un sufficiente finanziamento, questo aumento trasversale non dovrebbe essere, diciamo, effettivamente trasversale. Ci dovrebbe essere una certa equità orizzontale, non soltanto una parità orizzontale. Cioè le compensazioni per chi ha una performance, per gli studenti che hanno una performance migliore, e anche per quelli che hanno minore capacità di reddito, diciamo. Grazie. 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 Grazie.